quindi quattro oggetti abbiamo anche qua oggetti questo lo sfonda reggente questo è un altro collana della regina reggente è quello che possiamo appunto potenziare unire una ombra per potenziarla quando la si crea ma questo adesso bisogna menarlo non lo convince adesso questa è nuova l'ha distrutto cavolo 12.000 ci da tanto però il problema questo è che sappiamo che in teoria per parlarci devono essere quasi sconfitti se no non mi frega niente non mi aspettavo che l'avrebbero ucciso direttamente fatto do ok eh? già usato? come si carina animazione di non usare ok poi bisogna fare Grimaldelli che in teoria dovrebbe darcene un po' perché abbiamo la perizia alta la sacra sindone già 46 boh cos'è che compare? perché mi sono a vedere i mirini saperlo qua sono vegetali qua invece non c'è niente so se si leva ok 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 in realtà può essere che i 20 che i 20 timbri li fai semplicemente bisogna vedere perché siccome alcuni cioè perlomeno mi sembra che uno l'abbiamo trovato anche dietro un muro l'abbiamo trovato no quindi bisogna magari rifarli e sperare di trovare un muro cioè nel senso questi qui alle stazioni sono fissi ma gli altri probabilmente si fanno cioè si generano per cui devi ritrovarli nelle stanze segrete le ombre sono potenti la visite è un peccato dove siamo andati di nuovo 64 non l'ho visto la tama del ghiaccio niente queste sono tutte cose da vendere non si lascia passare ah ancora questo una caterva di armature sport è il coso per le persone entriamo qua ah strano che sia così distante il prossimo obiettivo attrezzatura orchessa cos'è? ripaggiamento femminile con piccole macchie dorate ah ok un vestito però in teoria è tutta roba vecchia il problema è anche capito cioè non ti spiega non ti spiega niente non ti dice cosa del livello 9 cioè quello che è non te lo spiega quindi non sai quindi abbiamo un bel po' di tesori stiamo facendo un sacco di sogni al fine lavori comunque per fortuna li hanno associati a a una statistica da far salire perché sennò che sarebbe un spreco no che cosa vai a fare per 3.300 per caso che questo non ha uno psi più potente perché sennò ce l'abbiamo forse un'altra persona che forse sarà da lo psi no come si chiama non c'era ma morgana altra armatura ho già 96 nuovi joker un trattore due vabbè sono soldi vedi questi qui in teoria non si potranno mai sfondare passano vegetale un po' turchese davvero davanti alla porta ok proviamo un attimo perché mi sembrava che ci fosse l'opsio e dio anche se c'è da dire che non è che è serio perché lo stiamo distruggendo o quantomeno tiriamo su la statistica di un'altra mi sa che ti conosco ah no sei cosa sei sei nincola sei nincola giusto allora niente non l'abbiamo scuffito a primo colpo veniamolo manualmente allora va la creazione questo è obiettivo e spero più caldo che si rifaccia vivo ok in teoria siamo ok abbiamo visto tutto si facciamo il timbro come va sai che poi a me non è neanche venuto in mente di farti mi dispiace è venuto in mente tutto dopo e farti auguri di buon Natale e anche di buon anno grazie addirittura due mesi dicevo te li faccio adesso anche se ma sai cos'è poi io speravo che prima o poi ci riaprissero ste palestre ma qua qua non perché ho letto adesso che forse parlo di marzo ok sarà d'attesa ok marzo allora noi come siamo messi guarda è stata una passeggiata in realtà questo qui c'è un altro timbro no sono contenuti nel nel royal ovviamente poi tra l'altro era estate quindi quindi eccolo qua è tornato un ragazzino novità immagino che non hai fatto un cazzo nemmeno tu perché se non l'avevi fatto l'altra volta non l'hai fatto neanche non l'hai nemmeno fatto stavolta no intendo di esercizi a casa hai messo massa tantissima massa sulla pancia ho capito che massa intendi ma sto di pancia ma solo magatama del gatto ma ops guarda il cuoco non ce lo dà purtroppo stavamo investendolo questo che cavolo è ma chi è è il samurai assassino insomma un gattone tutto un kamen non so che vabbè questo non sappiamo niente lo psio non ha l'aria di uno che gli faccia male lo psio bambino tutto bene boh di là o proviamo il dufo tra quest'aria teorica tra un mese ma che l'abbiamo congelato non mi ricordo tecnico frantumiamolo o se è fisico vabbè l'abbiamo svegliato abbiamo un fail è un aggiornamento niente ma tu l'hai giocato comunque devo riprendere anche io di persona tu hai quello normale secondo palazzo ok no come gioco merita ok e poi mi mette di buon umore streamarlo quando ci sono tutti i dialoghi allora vediamo qua adesso stiamo facendo il memento che vabbè sono una parte ripetitiva ma perché ci tocca siamo arrivati a un punto che bisogna bisogna fare questo un attimo e l'abbè già sbloccato anche questo è un pezzo che non li vediamo o perlomeno io li ricordo dagli altri giochi questo dà il sughero che hanno un gran fendente debole al vento abbiamo il magaro qui vai non c'era il bambinetto nell'altro sono penso che inutile hanno solo non vale la pena neanche di parlarti questi poi sai che il royale ha un intero quadrimestre in più non c'era nemmeno una sala giochi e poi considero che esce Strikers purtroppo a fine febbraio e io sono rimasto indietro con questo non lo sapevo sai cos'è no? Strikers è una specie di Dynasty Warriors con la storia però infatti volevi finire per Switch ah è Dynasty Warriors questo è lo Psy andiamo su quello che è lo Psy beh ho fatto il giro sbagliato ma va ho fatto il giro più lungo possibile immaginarlo io non l'avevo cagato Strikers perché boh pensavo fosse una cosa così poi ho visto che invece c'è un sacco di storia l'unico vero difetto è che che prosegue però dal 5 che non tiene conto del fatto che poi era uscito il royale praticamente si ambienta 6 mesi dopo la fine del liscio del vanilla che vuol dire 2 mesi dopo la fine di Persona Royale ma chiaramente ignorerà completamente la storia è stata aggiunta nel royale però è carino ok al Mabsy poi avrà Eiga che cos'è danno maledetto medium solo nemico ok ci sono tutti questi nemici basati sulla maledizione sul sacro però dicevo comunque sarebbe carino l'idea di rivederli i personaggi in un altro frangente ma dove si nasconde sta ombra ok allora vediamo un attimo la mappa ma c'era una svolta qua che non ho fatto ok qua libro cieco mappiamolo qui non c'è niente tutte le ombre mi sa che non c'è niente anche perché i forzi in realtà compaiono sulla mappa quindi poi è giocato qualcosa nel frattempo ok qui ci va da lui ok no è semplicemente lui rimappiamo quest'ultima parte qua ok niente allora abbiamo 120 fiori infatti fiori per me vedo che la vostra collezione team mi procede bene dicevo ho iniziato qualcosa ho continuato qualcosa fai sempre league of legend o genshin impact portare una serie vorrebbe dire tradurlo se la devo portare dovrei league of legend giocato genshin impact tutto sommato si poteva fare cooperativo a bordo con tuo fratello guarda ecco quello io ho fatto le coop del primo e un pezzo del secondo poi dopo lì sono successi casini vabbè se non avessi se avessi finito il secondo sai che sarebbe sto carino magari farlo insieme se ti andava e venimi in live con me allora cambiamo emento abbiamo quanto trimby quindi qualcosina dovremmo poter fare ancora anche qua 7 punti aumentiamo ancora gli oggetti vai dopo proveremo dopo andiamo aspettiamo per fare una carta bianca 120 deve andare sempre su questi qua forza forza magia ma la cosa che usiamo di più alla fine sono cose magiche è anche vero che sai se tu dici riesco magari a potenziare la persona tantissimo di forza magari inizia a diventare anche utile soprattutto con quegli attacchi medi o quelli ripetitivi avevamo visto quindi non sapere che decidere questi altri oggetti qua questi altri oggetti qua c'era proprio la paura confusione è questo qua che non è male facciamo scorta di questo un attimo perché non si sa mai magari in caso di emergenza per esempio ci ha fregato ti ricordi Evil quando ci ha fregato con con quattro attacchi di fila il si per sequel qui li hai fatti tutti ok e questo qua come ti sembra ok scendiamo allora scendiamo ho già all'ottava aria continuiamo a dire che non c'è ma stanno scuri che non stiamo sbagliando ma è impossibile essere così in basso altre fiore altre fiore vediamo questo qua guarda qua cinque oggetti abbiamo qua ok cazzo l'ho mancato poi torniamo in troppo ok abbiamo trovato già l'uscita 9 di 10 ok Borderlands 3 è il più bello per te ho sentito pare molto discordante al riguardo ho fatto anche tutti i vicoli cibi guarda mega beat guarda è bello che l'ho fatto anche lungo un chilometro perché se mi apparo devi stare niente dolceco ma guarda che sorpresa ha generato un po' profuso questo dolceco e qua e qua nemmeno non c'è niente oh vabbè inferiore cosa quanti soldi quanti soldi abbiamo do allora perché siamo ancora a 5 ormai forse non sono nelle aree qui indietro si sente metto proletà è già qua 92 aspettiamo di pulire qua in realtà si può anche tornare su cioè in realtà non è che si è obbligato a sprecargli subito i fiori io non pensavo che si doveva andare avanti così tanto vediamo che c'è qua pensiamo un tesoro tre tesori però questo è come al solito chiuso sta finendo anche il grimaldetto è che si è venuto oggi che non c'è la storia cioè ci sarà ma appena abbiamo finito questa parte mi metto l'ho lasciato cioè eravano una vita che non le facevamo ok altro bello che invidio perché i ragazzi gli istruttori sono sempre là a crossfit tra l'altro non so come mai mi sembra strano che non gli rompa le palle a nessuno però loro continuano a pubblicare da lì i video e loro non hanno perso un netto cioè un grammo di muscolo e non l'hanno perso c'è altri 4 timbi però dicevamo che adesso mettiamo su XP quindi lasciamolo lì e c'è ancora uno svincolo e poi andiamo dal ragazzino di nuovo un svincolo inutile questa è una buona strategia continuiamo a usare lì mi permette jokard prenderò note delle informazioni che bisogna oh mister facciamo bene bene devo dire cioè 7 ogni volta una bella una bella la tosta il denaro è sicuramente l'ultima delle cose aumentare non mi sembra questa grande importanza eh vabbè 7 effetti ma andiamo anche ancora con questa proviamo a prendere un po' la magia dobbiamo guardarle quelle cose come funziona ma forse è usato una volta effetti l'artigine in teoria è quello che fa rischiare di perdere di mancare il colpo in sostanza aspettiamo teniamoli questi 40 vediamo se allora in teoria possiamo scendere di nuovo però bisogna i 40 se no li lasciamo per niente eccolo è l'uomo di joshi a giudicare da quel ghigno direi che sta tramando qualcosa di orribile ho sentito che ha minacciato una coppia di anziani cercando di cacciare il loro cinema se lo lasciamo fare potrebbe passare alla violenza possiamo permetterlo questo è quello dei vecchietti forse riapre il cinema così aspetta 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 no no sai forse costringendo delle persone a lasciare le proprie abitazioni no è un bravo ragazzo lo sviluppo del territorio è importante si è un pianificatore urbanista questo sbarazzarmi delle persone testate fa parte del mio lavoro amminacciato di dare il fuoco ma passo le giornate a giocare come fate voi ragazzi diciamo sul serio non possiamo farla passare liscia a chi crea problemi al prossimo e questo vale anche per quelli come te che usano il bullismo per ottenere ciò che vogliono vedi Nicola non devi usare il bullismo siete solo dei mocciosi che si sentono grandi solo i bimbi dell'asilo giocano a fare gli eroi oppure i veri eroi scusè questo l'avevamo già visto mi sembra come un nemico spedirò in fondo l'oceano la feccia che osa opporsi a me ora datemi quel terreno non so se tornando indietro è uguale il tè di birre intendi non ci dice niente oh cosa sarà questo qua non ne ho idea vediamo quel buffo come minimo è sempre dalla parte a posto qua vediamo questo quindi ha fatto un accidente ella ella ma però allora poi aumentiamo i cosi aumentiamo difesa però c'è da dire che c'è c'è basso c'è basso poso altro proviamo questo facciamolo perché non vorrei finire in guai proviamo il fuoco resistito niente quindi per ora resiste al fuoco il ghiaccio ne ha fatto un accidente proviamo proviamo lo psio vediamo un po' lo psicopatica 97 a ribellione la chance di critico aumentate pure ascolta facciamo la guardia della difesa l'ultima un po' più questi sono i classici giapponesi che ci devono far vedere tutto se no non va bene con le giabattine le diana apriamo il frey forse forse no non ha fatto il suono quindi non è quello non senti il tinin questo si assomiglia no in realtà il frey lei ce l'ha perché ce l'ha ce l'anello non è facciamo vulnerabilità ok dobbiamo da un imanio no 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 vediamo certo com'è che questo va vai vai speciale e se forse era meglio curarle piano non è un onesto non è sta botta ma in morgana in realtà sono tutti un po' giù vero che per ora aspetta no 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 aspetta l'opponente è forte non fai nulla non fai nulla ricca bisogna provare il malzio ma l'ha mancato il vento non sappiamo allora curiamo va lui insomma tiriamo su lui perché lui è ha le le cure migliore niente tutte le cose che fa vabbè proviamo se sui gli fa danno 92 oh guarda guarda cosa fa grande grande non ha curato un spiritaggio però riproviamo il martio vediamo se ti entra ok è elettrificato allora in teoria no niente scossa elettrica ce la gli fa il critico ma se la prendiamo anche noi le curiamo in realtà è giù solo giù solo lei e si non attacco corpo 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 ok ce lo ecco lo fa con il nucleare nucleare va bene con il fuoco e va bene anche con l'elettricità vai credo che sia inutile parlare andiamo e basta non so Simon è ancora è ancora giù è giusto perfetto però non è non è caduto quindi non abbiamo un aggiornamento niente proviamo il l'anossal c'era l'altra che aveva facciamo non è sto 118 non ci credo non ci credo che pelo che paura resta il vento rischiamo il vento o o curiamo facciamo un tecnico rischiamo no no non mi fido non facciamo stupidate si facciamo media a tutti perché tanto ok luce a freila sono ancora capiti allora si è fatto un centro qualcosa quindi non era male però proviamo il vangaro il vento giusto per capire quindi potevamo eliminare un spino 8000 e come si fa a comprare come si fa a comprare le cose da 80.000 devono farsi mi mente ma se non cedono il terreno verrò licenziato vi prego non c'è modo per farmi avere quel cinema no battene da young proprio già smettili di creare problemi nel nostro quartiere stronzo mi dispiace rinuncio per favore perdonatemi spero che d'ora in poi penserai i sentimenti di colore a cui vengono spropriate le cose capito invece lui in inglese I'm sorry sono dispiaciuto sono sincero con i superiori gli dirò che nessuno vuole andarsene a young gli sparano direttamente solo da young devi rimediare anche le cose orribili che ha fatto altrove insomma cambia vita non ha commentato però lo shittimachi è rinato che ha un tesoro da vendere ok adesso so